Grande vittoria esterna della San Cataldese di Pietro Infantino. È stata la rete del solito zerbo su calcio di rigore a regalare il sorriso contro la Cireale a margine di una partita combattuta sul campo di Troina. Una partita delicata soprattutto per i padroni di casa che dovevano dimenticare la precedente sconfitta. Così non è stato con la Cireale che si è dovuta arrendere alla solidità della San Cataldese che continua a sorprendere per personalità nonostante la giovane età di molti calciatori a disposizione di Infantino. Intanto nel girone I di Serie D continua il dolce monologo del Catania che ha superato in trasferte il Castrovillari. Importante vittoria per il Trapani sul campo della cittanovese mentre Locri ha consolidato il secondo posto in classifica grazie alla vittoria arrivata nel finale contro Elicata. Questi i risultati della ventiduesima giornata del campionato di Serie D girone I. Canicattì-Santa Maria-Cilento 2 a 1, Castrovillari-Catania 0 a 2, Cittanovese-Trapani 2 a 3, Acireale-San Cataldese 0 a 1, La Mezzia-Terme-Realla-Versa 1 a 0, Locri-Licata 2 a 1, Mariglianese-Vibbonese 2 a 0, Città di Sant'Agata-Ragusa 1 a 0, Paternosa-Luca 0 a 0. per una classifica che vede sempre primo il Catania a 57 punti, Locri 43, Città di Sant'Agata-La Mezzia-Terme 39, Licata 35, Vibbonese 34, Trapani e Canicattì a 32, San Cataldese 30, Santa Maria-Cilento 28, San Luca 26, poi il gruppetto con Acireale, Castrovillari e Ragusa a 23 punti, Realla-Versa 22, Cittanovese 21, Paternò 18, chiude la Mariglianese a 14 punti.